Che dalla visita del Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo Pescara 9 non sia saltato fuori nulla di inquietante è senz'altro una buona notizia. Ma certo potrà esserlo ancora di più quando le visite, figlie della recente intossicazione balzata al disonore della cronaca, smetteranno di essere telefonate, per così dire, e diventeranno a sorpresa. I genitori, guidati da Giuseppe Capodilupo, stanno già lavorando in questa direzione. Dopo le note vicende dell'estate scorsa abbiamo deciso di, come dire, costituirci in un comitato e costituire un sottocomitato che è responsabile per quanto riguarda la distribuzione del cibo, per verificare se ci fossero delle criticità. Questo non per essere degli ispettori dove ficcare il naso, ma semplicemente per essere degli occhi in più per quanto riguarda la ditta, i genitori. Fare proposte, suggerimenti affinché possano essere scongiurati degli episodi come quelli dell'anno scorso. Se voi siete annunciati, visto che queste visite sono prese in comune accordo sia con i dirigenti scolastici che con la Serenissima, che è la ditta che oggi serve i pasti, se queste visite sono annunciate non temete che, insomma, quel giorno fili tutto liscio e poi... Noi siamo in attesa dell'approvazione, ma credo a giorni, del nuovo regolamento a livello cittadino, il quale prevede un cambiamento in questo regolamento attuativo della Commissione Mensa Cittadina senza preavvisi, quindi delle visite senza preavvisi a sorpresa. E questo lo prevede non solo presso le scuole, ma soprattutto presso i punti cottura. Complessivamente è stato positivo. È vero, come dice, eravamo stati preannunciati con tre giorni d'anticipo, però abbiamo visto che i bambini hanno reagito bene, hanno mangiato, qualcuno ha chiesto il bis, il cibo era caldo, per cui tutto era nella nonna. C'era qualche punto critico, ma niente di risolvibile, il quale ci siamo interfacciati con la responsabile, avrà una copia di queste schede e poi successivamente interveremo di nuovo per vedere se sono state risolte queste criticità.